Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 11 settembre. Intanto una piccola notazione, mentre sui siti internet si sta celebrando l'11 settembre, celebrando e ricordando l'11 settembre, molto meno oggi sui giornali, l'11 settembre è una data che ovviamente segna l'occidente, ma sui giornali ci si ricorda di tanto poco dell'11 settembre. Il tema fondamentale, Bibiana sei sempre la prima a metterti in collegamento, e il tema fondamentale oggi dei giornali è questa castroneria detta dall'alto commissario per i diritti umani dell'ONU. Soltanto Facci con la sua solita arguzia riesce a dire che questa non è alta perché bassa, non è un commissario perché è una commissaria, insomma inizia lì, buongiorno Luca, la presa per i fondelli per l'alto commissario, ma sull'alto commissario che vuole mandare in Italia degli ispettori per verificare il nostro razzismo, cosa a cui sembra credere il nostro razzismo soltanto la Repubblica, quindi un giornale che forse viene eletto, uno dei pochi che viene eletto a Ginevra o a New York, al palazione dell'ONU, intolleranza è stata legittimata, questo scrive Repubblica, insomma il coro degli altri giornali mi sembra un po' piuttosto unanime ed è quella di dire a questa commissaria la signora Bachelet, ex presidente del Cile, ma che stia di... devo dire che sono anche piuttosto di buon umore questa mattina per non dire quello che penso di questa signora vestita di bianco, bien placé, diciamo così, che nelle sue frequentazioni come ricorda Domenico Ferrara oggi sul giornale è stata molto criticata dalla blogger cubana che voi conoscete, la Sanchez, perché andò a Cuba, vide Fidel Castro, vide poi il fratello Raul Castro, che cacchio era, e non si degnò nel 2018, non vide Fidel ovviamente, vide soltanto Castro nel 2018 e non si degnò di vedere l'opposizione che in quel paese non viene trattata, diciamo che viene trattata peggio rispetto ai migranti della 18, cioè non viene lasciata libera di muoversi per le città, la stessa cosa nei confronti di Maduro, la stessa cosa nei confronti di Chavez, insomma questa è la signora che si permette di rompere le palle sul nostro razzismo dopo che signora Bachelet Sudamerica ha tollerato tutto il contrario di tutto ed è amica dei peggiori tiranni del Sudamerica. I vostri figli se ce l'avete un po' scemi, ognuno ha un figlio scemo, un parente scemo, qualcuno, mandateli all'ONU, non deve essere molto difficile entrare ma è molto ambizioso, anzi sarà difficile perché ci saranno tutti dei concorsi, delle invenzioni che loro si saranno trovati, non so se ha fatto un concorso la signora Bachelet per diventare Presidente dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani sta deficiente, comunque è sopra a un'organizzazione che vale 67 mila persone impiegate, 5 miliardi vengono spesi proprio per questa roba, per la gestione burocratica, quindi il figlio scemo, mandatelo là perché farà parte di un pezzettino di quei 5 miliardi, altro che Bruxelles, dice bene Cesare De Carlo oggi sul quotidiano nazionale, riguardo alla composizione dell'ONU, sempre De Carlo sul quotidiano nazionale, sul giorno, il quotidiano di Rifeser dice dei 193 paesi aderenti all'ONU, un terzo sono dittature o totalilitarismi, un terzo sono regimi teocratici e autoritari, l'Arabia Saudita e una trentina sono tutti in Occidente, sono i democratici e con chi rompe le balle alla signora Bachelet? Ovviamente all'Occidente democratico, dico e aggiungo, ovviamente poi sapete benissimo che nelle commissioni per gli alti diritti umani, le varie commissioni all'ONU, oltre all'Italia e gli Stati Uniti, un altro bello obiettivo è Israele, l'unica democrazia in cui Medio Oriente viene costantemente attaccata dall'ONU. A questi cretini ha risposto giustamente Salvini dicendo che non verseremo più i nostri contributi, che è un po' di solita refrain italiano, c'è da dire che i contributi italiani versati all'ONU sono 250 milioni e vengono usati più il nostro, secondo me è la spesa in questi 5 miliardi di bevande alcoliche di cui fanno uso spesso i funzionari e i dirigenti dell'ONU. Non ho proprio pietà perché se noi siamo arrabbiati con Bruxelles potremmo anche esserlo, ma sull'ONU non ci sono dubbi che è un ente totalmente inutile e anzi negativo. Movimento 5 Stelle sale la tensione con la Lega, questo titolo l'avrò letto già 20 volte negli ultimi 30 giorni, questa tensione, a forza di salire la tensione gli prende un infarto, ma non è esattamente così perché questa tensione mi sembra che poi alla fine si riconnetta e si rimettano sempre d'accordo. La tensione sarebbe sulle dichiarazioni di Battista che ha fatto ieri sera la Gruber, anzi grandi complimenti se mi permettete alla trasmissione invece della Palombelli, di stasera Italia che è la concorrente della Gruber sul Rete4 dove lunedì prossimo partirò con Quarta Repubblica perché ieri ha fatto un ascolto superiore alla Gruber e dalla Gruber pensate un po' chi arrivava, squilli di tromba, rulli di tamburo dal Guatemala arrivava Di Battista e cosa dice Di Battista? La Lega restituisca tutti e 49 milioni, il retroscena del Corriere della Sera oggi dice c'è molto disagio all'interno del Movimento 5 Stelle per queste dichiarazioni perché loro stanno a governare mentre quello sta a passeggiare in Guatemala, ma questa cosa di Di Battista quindi crea un po' di sconcerto e varie retroscena sui giornali, Cappellini oggi su Repubblica dice, tra l'altro nota una cosa di cui io non avevo visto perché io ovviamente ho visto la Palombelli, Di Battista dice che il successo di Salvini sia pompato dal sistema mediatico, specialmente da Repubblica che dice, Repubblica, che Salvini è un fascista però si comporta come l'istituto luce, io devo dire che Cappellini riprende questa frase, fa bene a farlo perché devo dire che io non ho capito come si possa pensare, cioè se Salvini sale, alleato con il Movimento 5 Stelle di Di Battista la colpa è di Repubblica che gli fa un culo così, un gelo così, un gelo no, è una roba straordinaria, cioè in Guatemala ci sono dei funghetti ma ci sono anche i peyote, ci sono delle sostanze, oppure in Guatemala si possono trovare forse l'ayahuasqua, cioè ci sono delle nuove droghe, anche forse più o meno naturali, vegane, che fanno avere delle allucinazioni e non voglio dire che per carità non so niente, però questa idea di Repubblica che aiuti Salvini denota, come possiamo dire, forse la necessità di avere un'idea un po' più lucida su quello che sta avvenendo sulla stampa italiana, sulle questioni delle domeniche l'idea lucida mi sembra che non ce l'ha, non ce l'ha il governo, ovviamente l'avvenire è contento di questa ipotesi di chiudere le domeniche la grande distribuzione e i negozi fa parte un po' del suo DNA dell'avvenire, ovviamente se i Vescovi non dicono che la domenica deve essere rispettata, insomma veramente mi stupirei, quindi uno dei pochi campi in cui io rispetto quello che chiedono ovviamente all'avvenire, dice buone domeniche, è il loro mestiere, però ovviamente da liberale come sono, forse rispetto un pochino di più il pezzo di l'intervista oggi stupenda di questo gasbarrino dell'UNES, cioè roba sua, perché lui si occupa di supermercati, non so quanti supermercati ha, intanto dice due tre cose fondamentali sulle domeniche in questa intervista, la prima è che ci sono 12 milioni di italiani che sono abituati ad andare a fare la spesa domenica, 12 milioni, allora porca miseria, questi leghisti e questi del Movimento 5 Stelle, leghisti secondo il ritroscena dei giornali oggi si starebbero un po' tirando indietro, forse dovrebbero capire che se ci sono 12 milioni italiani, che su 20 milioni di famiglie forse l'esigenza di chiudere domeniche non è così sentita, tra l'altro un'altra cosa che dice Gasbarrino è che il secondo suo maggiore incasso dopo il sabato e la domenica, cioè non solo sono tanti, ma vanno lì per comprare, allora io capisco qualche posizione di retrovia dei sindacati che ci sono oggi sui giornali, mi sembra che la Furlan oggi scrive sull'avvenire, le posizioni di retroguardia di alcuni commercianti, io capisco tutto quanto, lo capisco perfettamente, capisco tutto, però non prendiamoci per i fondelli, gli italiani ormai hanno cambiato le loro abitudini e la domenica vanno a fare gli acquisti, io per primo, perché riesco la domenica a fare quello che non faccio durante la settimana, è un male o un bene? Gasbarrino oggi ci dice che per i suoi dipendenti vorrebbe dire licenziamenti perché lui ha il 14% di lavoro in più e quindi se le domeniche le chiude e devono essere decise dagli enti locali per lui è un disastro e qui mi dice in Svizzera comunque con i negozi chiusi del sabato sera alle 18 non sono vista poi tanto male, no, io veramente quella roba della Svizzera non la comprenderò mai, ha ragione il nostro ascoltatore che ci scrive ora, dice in Svizzera si chiude la COP alle 18, non lo ricordo perché alle 18.01 quelli ZACK chiusa la COP, penso che in un paese normale in luoghi diciamo di vacanza, a parte che domeniche sono aperte alcune COP in Svizzera, mi sembra ridicolo poter non lasciare la libertà ai negozianti di fare quello che gli pare. Sulla vicenda ci sono due pezzi che vi segnalo, Michele Brambilla sul giornale quando ritornano le cabine telefoniche dice con questa idea di ritornare al passato e Mario Giordano che invece al contrario sulla verità dice ho nostalgia delle domeniche chiuse con la messa alle 11 e gli unici negozi aperti erano i pasticcini e i fiori per la mamma. Insomma due punti di vista diversi che potete vedere sui giornali di destra, Michele Brambilla sul giornale e Mario Giordano sulla verità. Sui copyright oggi c'è Gran Baccano perché gli editori dei giornali si sono messi tutti d'accordo con una pubblicità e con degli articoli su tutti i giornali a parlare della direttiva che dovrebbe passare al Parlamento Europeo, affossata a luglio proprio e anche con un certo godimento del Movimento 5 Stelle e Lega. Andiamo molto sul semplice, io utilizzo i social media, utilizzo questa roba qua e regalo a Facebook il tarfico che stiamo facendo, va bene? È del tutto chiaro? Lo faccio regalandolo e poi dopo ovviamente posso portarlo sul mio sito nicolaporro.it dove vi convinco a venire perché preferisco che veniate sul sito perché sul sito vedo la pubblicità, lo metto su YouTube perché spero che anche su YouTube si venda la pubblicità, ma è una mia scelta. Il problema vero su cui si sta discutendo in Europa è io che sono pagato dal giornale, il pezzo mio del giornale può essere visto anche nelle ricerche di Google gratis? Perché io devo essere pagato dal giornale e le prime cinque righe dei miei pezzi debbono essere fruite dai motori di ricerca, da Facebook e da questi colossi internet gratis? Questo è il punto fondamentale. Facci la faccia di buona fete? Non so cosa pensi buona fete di questo, quello che pensa qualsiasi giornalista è che noi abbiamo una sola cosa di cui possiamo vendere e cioè la nostra scrittura. Possiamo vendere i nostri articoli, possiamo vendere i nostri e possiamo liberamente dire di farlo ogni tanto e non farlo ogni tanto, quindi l'articolo 11 di questa direttiva è sacrosanto. Come dice bene oggi Massimo Sideri, cosa succede su internet? Che loro ci mettono i primi tre righi, i sommari, i titoli dei nostri pezzi ed è come se prima di entrare in un ristorante scrive bene Sideri, il ristoratore, un terzo, un titano di internet si presentasse davanti a quel ristorante e ti facesse avere tanti piccoli assaggini delle cose che ci sono nel menu di quel ristorante. Chi andrebbe più a mangiare in quel ristorante è quella stessa cosa che sta avvenendo su internet. Quindi questa legge sui copyright, Daniele Manca e tanti altri ne scrivono oggi sui giornali, è sacrosanta. Internet deve campare, gli vogliamo bene, però paghi per quello che lui utilizza da parte della carta stampata. Travaglio fa il fenomeno, se la prende con Mauro che ieri diceva, ma possibile che questo governo adesso si vuole mettere a dire alle partecipazioni statali, all'Italia, le autostrade, l'Enel, si mette a dire dove e come investire. Dice io nel 2010 ho scritto un pezzo, abbiamo scritto, abbiamo detto che Enel Green Power, che all'epoca si quotava, era una truffa, non era proprio una truffa, ma insomma era una cosa da non comprare e loro ci tolsero la pubblicità. Ma la domanda che io faccio è molto semplice, se un giornale è convinto che stanno vendendo una roba che fa male, può fare la pubblicità? Cioè il punto non è taro travaglio che fai sempre la lezioncina a tutti quanti, se tu eri convinto che Enel Green Power era una truffa nei confronti dei risparmiatori, tu non dovevi accettare quella pubblicità, non fare il fenomeno, non accettare la pubblicità e scriverne male, non puoi accettare la pubblicità di una droga, non puoi accettare la pubblicità di uno che spara. Al giornale tante volte arrivavano, me lo ricordo, delle pubblicità di neonazisti che volevano fare la pubblicità sul giornale presumendo che il giornale l'avrebbe pubblicata. Non l'abbiamo pubblicata, non si pubblicano tutte le pubblicità, il giornale ha il diritto di non pubblicare le pubblicità, quindi se ti faceva schifo Enel Green Power, non fare il fenomeno che prendi la pubblicità, prendi 20.000 euro da Enel Green Power e poi ti paghi il giornalista per dire che schifo Enel Green Power sarà una truffa per i risparmiatori, non accetti la pubblicità che invita i tuoi lettori a comprare quel titolo, o no? Mi sembra questo il ragionamento. Torino-Lione, bello, oggi il sole 24 ore, vi dico soltanto questi dati di una ricerca che verrà presentata domani. Ogni euro speso per la Torino-Lione ci sarà una crescita di 4 euro del PIL, 22 anni che parliamo della Torino-Lione, 11 cambi di tracciato, 7 trattati internazionali, 8 delibere del Cipe, 5 valutazioni di impiatto ambientale e ancora ci rompono le balle su nuove analisi costi e benefici. Basta! Questo è il modo per affossare tutto. E quando vi dicono che dobbiamo approfondire, 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 questa roba qua sulla TAP vogliono approfondire per non farla fare 22 anni per fare la Torino-Lione. Ultima cosa, stupendo, oggi il foglio si ricorda dei due indagati e condannati grillini che poi i grillini zitti zitti passano un po' di mesi e se li riporta a casa. L'ultimo di questi era il Trunira, uno che è stato condannato perché copiava i cd legalmente, le videocassette legalmente, condannato e il Buonafede lo fa fuori insieme a Di Maio dal gruppo parlamentare, vi ricordate, gli espulsi del gruppo parlamentare, passano un paio di mesi e ci ricorda il foglio, viene riportato a casa. Bene, come il miglior partito garantista del mondo, come i socialisti, come i liberali, come Forza Italia, come ognuno ha i suoi difettini, quello copiava i cd e quello rubava. Insomma, l'attitudine è sempre quella. La Trunira andrebbe fatta con l'alta velocità vera, non a 200 km dell'ora, dice Francesco. Ognuno ha un'idea su questa cosa qua, io vi saluto, Camillo vedo Milko Pennisi che ogni tanto scrive sul sito, lo saluto anche lui, vi do appuntamento domani come sempre con la zuppa di Porro, se vi piace condividete e sul sito Nicola Porro tutte le informazioni di giornata. Ciao!